Ragazzi qui la cosa si fa seria, guardate il giardino di casa com'è, mamma mia, sta diventando un tappeto bianco, sembra ovatta, ma è meraviglioso, il limone si sta imbiancando, no che meraviglia, mai successo una cosa del genere? Forse lo scorso anno sì, ma non nevicava così tanto, vabbè insomma, quanto durerà chi lo sa, certo la città sarà veramente incasinata oggi perché noi romani non siamo abituati a questa neve, che freddo, ora entro, baci baci.